Risveglio muscolare in plein air per la Pescara Calcio, che si è presentata alle 12 di questa mattina nella centralissima nave di Cascella per allenarsi davanti agli occhi stupiti dei suoi tifosi. La decisione è stata del nuovo tecnico Massimo Oddo, che forse causa bella giornata, sole e mare, ha voluto portare i ragazzi a sei ore dal match con il Vicenza fuori dalla palestra abituale. Un segnale forte per chi vuole leggere tra le righe, da un lato all'ex tecnico Baroni, che praticava allenamenti a porte chiuse, dall'altro l'apertura totale al pubblico e alla città. Allenamento davanti al mare, simbolo di Pescara, tra bagnanti intenti a prendere il sole e curiosi che hanno filmato momento per momento il grande evento. La straordinarietà del momento si è contrapposta alla semplicità con la quale il pubblico ha risposto. Una schiera di persone intenta ad osservare gli allenamenti, ascoltare le varie disposizioni, senza invadere mai l'area occupata dai giocatori. Un esempio di civiltà e rispetto che forse fa più notizia della notizia stessa.